E in tema di lavoro è intervenuto oggi anche il Presidente della Repubblica Napolitano che è tornato a chiedere di non abbassare la guardia nella battaglia contro le morti bianche. Elena Seno. L'occasione per rilanciare la lotta contro le morti bianche è arrivata dall'Ottavo Congresso dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, riunita da oggi a Orosei in Sardegna. Non bisogna abbassare la guardia, scritto in un messaggio napolitano avvertendo che anche se i dati indicano una diminuzione degli infortuni, ancora troppi sono i casi di mancate denunce, colpevoli silenzi. Dal Ministro Poletti è poi arrivato l'impegno a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. 750.000 gli infortuni in tutta Italia, secondo i dati Inail, che ci riporta il Presidente dell'ANMI, Franco Bettoni. C'è sicuramente un forte impegno, grazie anche a Napolitano e a tutte le porte sociali, di parlarne di più, ma noi dobbiamo andare dove se ne parla poco. Colpire chi non fa sicurezza con dei controlli importanti da parte degli enti e noi diciamo sempre qualcuno che li coordini meglio un solo ente e potrebbe farlo l'Inail per tutti.